ceri file di ceri accesi nella realtà che è senza tempo al suo funerale ho acceso il cero di mio padre che in un'altra vita era mia madre che a sua volta in un'altra vita ha acceso il mio cero quando ero la prostituta che aveva amato tanto mio cugino che a sua volta è stato mia zia giuseppina la stessa legge di affinità regolato le reincarnazioni di chi adesso sono mia sorella e mio fratello di nonno igidio e della moglie c'è anche qualche antenato fino a quando non avrò slacciato i legami che mi accomunano ai miei parenti ed affini apparterrò a questa famiglia spirituale poi ma il poi non esiste in una realtà che senza tempo scambierò le mie reincarnazioni in una famiglia più evoluta